Questa unità didattica è dedicata all'implementazione in prolog dell'algoritmo A. L'algoritmo A la possiamo pensare come una estensione della gridi search, in quanto che laddove quest'ultima ordinava i nodi sulla frontiera in base al mero valore dell'euristica, l'algoritmo A ordina in base al valore della funzione di valutazione che è così dalla somma del valore dell'euristica più il valore del costo del percorso dal nodo radice al nodo in questione che si sta espandendo. Come sappiamo noi abbiamo impostato tutta l'implementazione di questi algoritmi sul concetto di lista dei percorsi frontiere piuttosto che la lista dei nodi frontiere, quindi continuiamo su questa linea e utilizziamo come base del nostro algoritmo l'algoritmo che abbiamo già studiato della ricerca gridi. Quindi partiamo appunto da qui e quello che dobbiamo fare è sostanzialmente innanzitutto vedere se dobbiamo modificare la struttura dati fondamentali, quella che abbiamo utilizzato nella ricerca gridi con la funzione di valutazione e la valutazione di costo. Sì, in realtà potremmo anche evitare di cambiare nome, ma sostanzialmente quello che facciamo è che utilizziamo il primo argomento della struttura dati per rappresentare questa volta la funzione di valutazione F. e il secondo e il terzo lo lasciamo in alterato. Quindi il secondo, essendo la funzione di valutazione, la funzione di costo, abbiamo che in pratica la H sarebbe la differenza fra F e C. Quello che andremo a fare è comunque ordinare rispetto a F fino a qui, quindi sarebbe una differenza più concettuale che formale. Invece la sostanza, cominciamo a vedere adesso, innanzitutto l'algoritmo A avrebbe la stessa struttura, sì, quindi sarebbe composta una clausola tappo e una clausola ricorsiva, ma avrebbe come differenza che innanzitutto la clausola tappo non si fermerebbe quando la funzione di valutazione è zero, ma si fermerebbe quando l'euristica è zero e quindi quando la differenza fra la funzione di valutazione e il costo è zero, cioè quando la funzione di valutazione è pari al costo. Poi andiamo a espandere rispetto a questa nuova struttura e questa sostituzione di H con F è puramente cosmetica, invece quella che sarà sostanziale sarà la modifica che andiamo a fare nell'algoritmo di espansione, perché dovremmo certamente andare a vedere, andare a prelevare il successivo nodo che sarà parte del percorso espanso, il nodo successore è il nodo che attualmente è in testa al percorso che dobbiamo espandere, andiamo a controllare come al solito, non faccio già parte del percorso che vogliamo espandere, andiamo a prelevare il valore dell'euristica di questo nodo, andiamo anche ad aggiornare il costo del percorso, ma poi appunto dobbiamo andare a fare un'ulteriore operazione che è quella di andare a calcolare il valore della nuova funzione di valutazione, che sarà dato dal costo più H, dove H è il valore della funzione dell'euristica, e ovviamente questo era F, a questo punto il set off ordinerà rispetto a questo F qui, dobbiamo però anche tenere presente che a questo punto l'H che abbiamo qui non ce l'abbiamo più nel termine che andiamo a utilizzare per aggregare i dati all'interno del set off, quindi parimenti come avevamo fatto a suo tempo con la variabile C1 dobbiamo quantificare esistenzialmente anche sulla variabile H. Bene, a questo punto non ci sarebbe niente da cambiare, dovremmo andare semplicemente a cambiare, giusto per motivi cosmetici, le H che abbiamo qui nella funzione ordinata con F, però se non lo facciamo non dovrebbe esserci nessun problema, ricordiamoci semplicemente che H questa volta sta per F e non per H, per il resto non cambiamo niente, non dovrebbe cambiare niente, quindi proviamo un attimo a salvare il buffer e a compilare, magari un attimino cambiamo forse anche il lanciatore, dovremmo anche cambiare il... forse se cambiamo anche il numero è meglio... e dovrebbe funzionare... vediamo... lanciamo un cerca percorso... percorso l'ho trovato, c'è un problema qui sull'inversione... non c'è il pregato per effettuare l'inversione, mi sono dimenticato di riportarlo, ma questo non era importante, però lo facciamo al volo... a dov'io un paese... a dov'io un paese... non c'è un problema qui... non c'è un problema qui... e qui abbiamo anche fatto in modo, come avevo fatto l'altra volta, di restituirci anche i percorsi che sta espandendo e quindi nell'ordine in cui l'algoritmo cerca di espandere i nodi abbiamo appunto i nodi, cioè i percorsi che sta espandendo, qui in ordine inverso, quindi teniamolo presente, quindi prima espande Arad, poi espande Arad Sibiu, Arad Sibiu Rimini-Gulcea, Arad Sibiu Rimini-Gulcea Pitesti, e qui è andato in maniera lineare, dopodiché cambia Arad Sibiu Fagras, poi cambia ancora, torna a espandere Arad Sibiu Rimini-Gulcea Pitesti, Bucharest, come abbiamo visto a lezione nella parte di teoria, a star fa questo cambiamento, poi se lo facciamo fallire ci dà il secondo percorso più lungo, e li vedete anche la sequenza di percorsi tentati, e poi il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, e non ce ne sono più. Qui si interaggiorna il costo del nodo, il costo del percorso dal nodo radice al nodo che stiamo espandendo, l'algoritmo a star richiede che G, la componente di costo della funzione di valutazione, sia il costo ottimo. Fortunatamente, e questo non sarebbe, nulla ci dovrebbe garantirci che questo sia il costo ottimo, se non il fatto che appunto la, l'euristica che abbiamo utilizzato, ci garantisce che quando lo andiamo a espandere la prima volta, già lui è il costo ottimo, per cui questo costo che andiamo a utilizzare qui all'interno dell'espansione è sicuramente il costo ottimo. Bene, con questo si conclude questa unità didattica sulla, una possibile implementazione dell'algoritmo a star. Probabilmente non è la più efficiente, nelle slide che riguardano l'autoria è riportato un'altra implementazione in prolog dell'algoritmo a star che vi invito a testare per valutare la migliore o peggiore efficienza di quell'algoritmo rispetto a questo che ho presentato qui.